Si continua a parlare dell'emergenza acqua, più che altro si vuole fare chiarezza, è necessario fare chiarezza e l'osservatorio indipendente sull'acqua del Gran Sasso vorrà fare chiarezza proprio sabato in un incontro alla sala polifunzionale della provincia di Teramo. Sì, abbiamo iniziato questo percorso che con tutte le associazioni ambientaliste man mano se ne stanno aggregando altre si è aggregato anche il Club Alpino Italiano, insieme a WF, Legambiente, Mountain Wilderness, Cittadinanza Attiva molti cittadini, anche singoli, hanno deciso di darci una mano e di seguire questo percorso. Il percorso inizierà sabato, sabato alle 4 e mezza alla sala polifunzionale della provincia avremo questo confronto insieme agli attori principali dei fatti dell'8 e del 9. Il titolo che abbiamo voluto dare è molto semplice, che cosa è successo all'8 e il 9? E tramite loro, tramite proprio le azioni che hanno svolto durante quel giornale vogliamo ricostruire proprio il sistema che ci ha portato a individuare delle criticità enormi. è il primo incontro che faremo, a due settimane, una settimana e mezza, adesso stiamo studiando i tempi ne faremo subito un altro perché il percorso individuato prevede questo, capire che cosa è successo analizzare il sistema proprio e quindi sentire il prossimo incontro sentiremo proprio altri attori che possono essere l'autostrada dei parchi, la regione Abruzzo e l'istituto nazionale di fisica nucleare per arrivare a capire bene quali sono le azioni da prendere in esame immediatamente per capire se la messa in sicurezza è il nostro acquifero. Voi vi ponete in una posizione anche abbastanza di difesa dell'operato comunque del Sian della scorsa settimana? Sì, stante così le cose e a lettura delle norme è chiaro che davanti a una non conformità di quel genere stabilita per legge non altro che intervenire. Ora tutto quello che poi è accaduto, le comunicazioni come è avvenuta anche la comunicazione con i cittadini sono tutti elementi di criticità però molto forti, per cui è chiaro che noi la prevenzione l'abbiamo sempre chiesta l'abbiamo sempre chiesta con forza, abbiamo sempre chiesto che quando le questioni non andassero bene venissero portate a conoscenza e si agisse di conseguenza. Noi abbiamo visto dalle analisi, ormai si discute ampiamente in qualunque posto di una città sulle analisi e sui quantitativi di sostanze. Qualcosa in rete è andato, sarà andato secondo i limiti, sotto i limiti diciamo di legge ma in rete comunque qualche situazione è andata. Noi dobbiamo impedire e conoscere il perché questa situazione è la fonte inquinante le fonti inquinanti che sappiamo essere provenienti dai due più grandi criticità la presenza del laboratorio e l'autostrada dei parchi. E sulla presenza dei laboratori del Gran Sasso qualcuno, anche i sindaci, sono tornati a chiedere la chiusura dei laboratori, la vostra posizione qual è? Allora, anche la nostra posizione verrà fuori proprio insieme all'incontro che faremo è chiaro che sappiamo benissimo, lo sappiamo da tantissimi anni e continuamente anno per anno abbiamo sempre ripetuto che gli elementi, le sostanze mantenute all'interno del laboratorio non sono certo sostanze che possono stare su un acquifero bisognerà capire bene quali potrebbero essere altre attività che il laboratorio può svolgere ma sicuramente tenere stoccate tonnellate di sostanze estremamente pericolose questa è una criticità che bisognerà affrontare e probabilmente chiedere al laboratorio di smetterla immediatamente.